Veneto in zona arancione, ma attenzione spiega Zaia, non abbiamo ancora imboccato la via della discesa nelle curve, si registrano dei cali ma anche delle riprese. Il decreto prevede fino al 30 aprile zona rossa e zona arancione. Qualora le condizioni epidemiologiche consentissero di reintrodurre le altre fasce, c'è la possibilità di farlo. Sul modello dei 21 parametri il governatore è chiaro, diventa giorno dopo giorno sempre più anacronistico perché costruito in un momento nel quale non esisteva una diagnostica e delle cure come facciamo oggi. Dico semplicemente che ci vorrà il buon senso di saper dosare la voglia che abbiamo tutti di aprire con quella che è di preservare la salute dei nostri cittadini. Penso che la verità stia nel mezzo, non stia né dalla parte dei liberi tutti ma tanto meno dalla parte di chi dice che bisogna restare chiusi tutti. Penso che comunque ci voglia una gradualità. Comunque giovedì annuncia, incontreremo il presidente del consiglio, bisognerà trovare un equilibrio tra la voglia di riaprire la valutazione del pericolo dell'epidemia. Sul fronte vaccini l'ennesimo rallentamento. Questa settimana arriva solo Pfizer, non arriva né Moderna né AstraZeneca. Quindi sono arrivate, noi abbiamo previsioni solo di queste 125.000 di Pfizer. Restano le dosi avanzate. Voglio dirvi solo che abbiamo 39.547 Moderna e 99.429 AstraZeneca. In totale stamattina l'apertura dei cancelli, per dire, avevamo 132.371 dosi. Intanto a livello internazionale tiene banco il caso AstraZeneca che potrebbe sparigliare di nuovo le carte in tavola. Sulle trombosi post vaccino ulteriori approfondimenti fanno dire ad EMA, Agenzia Europea per il Farmaco, che il nesso esiste anche se non è chiaro quale sia il meccanismo. L'Italia sta valutando limiti di età per la somministrazione ma non per il richiamo, mentre il ministro Speranza è pronto a rivedere le categorie. Velocizzare la campagna vaccinale significa anche trovare il maggior numero di personale per farle. Zaia torna sulla polemica nata dalle sue parole, non ci vuole una laurea per fare le iniezioni e ribadisce il concetto. Vi dico la verità proprio perché siamo tra quattro amici e nessuno ci ascolta. Io avevo anche pensato di presentarmi al centro vaccinale a fare le iniezioni, però poi ho pensato, ho una laurea, smentisco me stesso o no? Ma comunque se mi arruolassero a fare iniezioni andrei, mi piace anche. Grazie a tutti.